Lega abbraccianti! Lega abbraccianti! Lega abbraccianti! Ripartiamo oggi con la Lega Abbraccianti nel fango della miseria, dello sfruttamento, dell'abbruttimento, come hanno fatto i braccianti ieri con Giuseppe Di Vittorio, da protagonisti, organizzandosi, coalizzandosi in leghe per riprendere la propria dignità, il diritto al lavoro, al salario, alla casa, il diritto a una condizione anche di permesso di soggiorno, quindi per un uguale lavoro, uguale salario. Ripartiamo da lì, ripartiamo da qui, soprattutto nell'era dell'economia digitale, per dire che sono passate gli anni, ma le condizioni di abbruttimento, di sfruttamento e di miseria sociale e lavorativa dei braccianti sono sempre più aggravate quelle condizioni. Ma proprio in questa giornata, che è la giornata di nascita di Giuseppe Di Vittorio, inauguriamo la prima casa dei diritti e della dignità, dedicata proprio alla figura di Giuseppe Di Vittorio, che è il punto di riferimento delle nostre lotte, come lo è stato per chi ieri lavorava nel fango della miseria. Uguale lavoro, uguale salario, uguale lavoro, uguale salario, uguale lavoro, uguale salario. Quindi è per tutti gli abbraccianti, tutti i lavoratori, operai agricoli, dai campi alla forchetta, uniti insieme.